I partecipanti il bando anglo degli azzurri, oggi è una rossa degli azzurri appunto di KBS 3, 2, 1, 2, 1 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1 You say you're not gonna fight cuz no one will fight for you You think there's not gonna fight and no one would give it to you Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!